buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di non mi rassegno la rassegna stampa commentata d'italia che cambia allora nella puntata di oggi parliamo di un nuovo studio uscito su science sul coronavirus e poi parliamo dell'air day perché oggi è il 22 aprile è l'air day anche se molti eventi sono stati cancellati e comunque tra l'altro il cinquantesimo anniversario del primo air day che si tiene nel 1970 e quindi ho un po di notizie relative a questa ricorrenza allora prima di cominciare vi ricordo che tutte le notizie di cui parlo più molte altre le trovate sulla pagina rassegna stampa dell'italia che cambia punto org che vi lascio nella descrizione di questo video su youtube se lo state guardando su youtube su spotify su spreaker ovunque lo stiate guardando trovate il link alla pagina rassegna stampa allora partiamo appunto parlando degli nuovi questi nuovi studi sul coronavirus perché è uscito un articolo su science che mette assieme tutti i principali studi pubblicati da vari gruppi di ricercatori sugli effetti del virus sul corpo umano e perché ovviamente con tutta questa ricerca frenetica fra chi cerca una cura chi cerca di fare il vaccino e comunque tutta la ricerca sul campo fatta dai medici che stanno provando a curare i pazienti in questi mesi iniziano ad esserci un bel po di dati per capire come funziona questo patogeno che sembra essere un po più complicato di quanto ci credesse all'inizio e no non sto parlando del caso dei medici cinesi che si sono svegliati con la pelle nera quello sembra essere l'effetto un effetto collaterale particolare di un farmaco se non sapete di cosa storia parlando andatevelo a cercare su youtube e invece no sto parlando appunto di questo articolo scientifico che è uscito che è per adesso il più completo uscito finora per cui vale la pena spenderci le parole allora cosa dicono questi studi partiamo dal dire che comunque confermano che i casi più gravi sono una percentuale abbastanza piccola dei casi totali circa il 5 per cento e perché spesso infatti i pazienti sviluppano soltanto dei sintomi lievi a volte sono praticamente asintomatici e molto sembra dipendere da quanto da quando il sistema immunitario riesce a bloccare il virus che spesso inizia a riprodursi nel naso per poi passare alla gola e è lì che spesso quasi sempre la maggior parte dei casi poi il sistema immunitario dell'essere umano riesce a bloccare l'avanzata del virus però appunto in altri casi il virus riesce ad aggirare le difese immunitarie del corpo e ad arrivare ai polmoni e in questi casi però sembra che il virus non si limiti almeno non sempre si limiti a colpire i polmoni ma abbia a volte un effetto più diffuso su tutto l'organismo interessando in diversi casi anche il sistema cardiocircolatorio e a volte una serie di altri organi che sembrano essere un bel po tipo l'intestino il cervello gli occhi e in realtà anche altri insomma se vi interessa approfondire c'è questo articolo sul guardian e ce n'è anche uno sul post di oggi che più o meno riassume anzi quasi passo passo tutti i punti citati anche ho detto il guardian no è science ormai prendo il giro dal guardian no su science scusate e invece questo del post che riassume passo passo e traduce in italiano se preferite leggerlo in italiano più o meno le stesse cose c'è un altro elemento interessante si fa per dire che sembra che a volte nei pazienti più gravi superata una certa soglia si sviluppi una cosiddetta tempesta di citochine citochine scusate che sarebbe una reazione esagerata oltre misura del sistema immunitario che si rivela in realtà essere molto distruttiva per i tessuti polmonari allora va beh questa era una panoramica mi sembrava interessante farla perché comunque ne parleranno probabilmente anche molti giornali molti telegiornali anche qua da noi e quindi era interessante fare il punto su cosa effettivamente emerge da questi studi considerate comunque molti di questi studi dati le circostanze data l'urgenza sono spesso frutto dell'osservazione e raccolta di dati di tanti team di medici indipendenti sparsi per il mondo che però non hanno ancora superato la fase della peer review che sarebbe la revisione da parte dei pari che in questo caso sono altri medici che è un processo fondamentale nella ricerca scientifica quindi vanno prese ancora con le dovute cautele anche se comunque ci sono un bel po di dati a supporto di molte delle delle affermazioni fatte nell'articolo comunque appunto se vi interessa approfondire vi lascio i link ai vari articoli sia quello su science sia quello ripreso dal post va bene passiamo ad altro perché appunto come annunciavo all'inizio oggi è l'earth day la giornata della terra e per l'appunto non è un'earth day qualsiasi ma è il cinquantesimo anniversario perché appunto il primo air day risale al 1970 momento storico in cui nascevano i primi movimenti ambientalisti ci si iniziava a rendere conto a livello globale degli effetti del nostro modello di sviluppo sugli ecosistemi e di problemi come il cambiamento climatico 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 come il crollo della biodiversità erano gli anni fra l'altro del club di roma di aurelio peccei che di lì a poco avrebbe partorito la prima grande storica ricerca sui limiti che dobbiamo rispettare nella nostra azione sul mondo che si chiamava i limiti della crescita diciamo realizzata da alcune delle menti più brillanti del pianeta chiuse in uno scantinato dell'MIT di boston e tra l'altro se per caso parentesi vi interessa approfondire questo argomento specifico vi lascio il link a un documentario molto bello che si chiama the last call l'ultima chiamata che trovate liberamente su youtube comunque ve lo lascio anche in descrizione e comunque chiuso la parentesi insomma oggi è l'earth day che attualmente insomma recentemente è festeggiato ormai in centinaia di stati in tutto il mondo con manifestazioni concerti eventi che hanno negli anni anche diffuso una certa consapevolezza delle problematiche ambientali in tutto il mondo in questo caso specifico ovviamente molti degli eventi sono stati cancellati alcuni sono stati trasferiti online per cui andatevi a cercare il programma perché ci sono un sacco di conferenze seminari workshop interessanti che potete seguire online nella giornata di oggi comunque fatto sta che in onore di questa giornata vorrei fare una piccola carrellata di belle notizie che riguardano la terra e in particolar modo gli animali e sono tutte notizie considerate di ieri e di oggi non è che sono andato a cercarmele spulciando negli annali quindi roba fresca che arriva proprio notizie degli ultimi giorni allora partiamo da un articolo di green me che parla dell'aquila grigia che sta tornando a volare sui cieli d'inghilterra considerate sono passati circa due secoli dal suo ultimo avvistamento erano passati e l'aquila l'aquila grigia è un'aquila molto grande con un'apertura alare di due metri e mezzo ho detto anche aquila aquila di mare con la coda bianca ed è uno dei più grandi uccelli rapaci del pianeta e pare che sia stato avvistato appunto per la prima volta in 240 anni in volo sopra le north york moors che sarebbero insomma un'area naturale protetta dell'inghilterra nord occidentale che è situata insomma nel north yorkshire e quindi questa è sicuramente una una bella notizia il fatto che questo che questo rapace sia tornato a volare liberamente in inghilterra c'è anche un'altra specie tra l'altro che pensavamo estinta da 120 anni e che invece sembrerebbe secondo un recente studio essere ancora viva e vegeta e vivere per l'esattezza in somalia si tratta del lupo rossastro che era dato per estinto ormai da diverso tempo mentre adesso due ricercatori italiani sembrano essere abbastanza certi di aver individuato quello che hanno definito un insolito canide di piccole dimensioni all'interno della regione settentrionale dell'etiopia di afar scusate che sembrerebbe corrispondere perfettamente alla descrizione del lupo rossastro per cui i due ricercatori italiani sono abbastanza convinti che si tratta proprio di lui nel frattempo in brasile con le spiagge vuote a causa delle ordinanze che hanno imposto ai brasiliani di rimanere a casa durante l'emergenza coronavirus sono nati 97 esemplari di tartaruga embricata che è una specie a rischio estinzione l'ennesima specie a rischio estinzione che hanno visto la luce indisturbata e per la prima volta in tanti anni sono riusciti appunto a nascere e raggiungere il mare senza incontrare proprio il o senza che le uova fossero schiacciate prima dai bagnanti o incontrare comunque l'ostacolo degli esseri umani che involontariamente si frapponevano fra loro e il loro habitat naturale e per concludere c'è anche un'altra storia in cui ci sono c'è una qualche collaborazione fra due specie diverse una è una specie molto piccola di una specie di rana molto piccola e un'altra è la specie dei sapiens degli esseri umani perché questa storia arriva da porto rico e è la storia di olaf ne parla il guardian su questa volta il guardian veramente sul sul lungo articolo molto bello che parla di questa minuscola rana nata in vitro e rilasciata in libertà dagli scienziati portoricensi per arricchire il patrimonio genetico di una specie in via di estinzione che era quasi funzionalmente estinta e che invece potrebbe con questi innesti di nuovi patrimoni genetici a disposizione per arricchire la diversità genetica appunto ritrovare un nuovo linfa vitale allora il tema degli animali in via di estinzione per concludere è centrale per tanti motivi può sembrare e spesso in realtà lo è un approccio un po naif quello di proteggere l'animaletto carino dall'estinzione e di sicuro è un approccio destinato a fallire miseramente se in parallelo non ci preoccupiamo di risolvere le cause che stanno portando all'estinzione di sempre più specie tipo cambiamenti climatici distruzione degli ecosistemi da parte dell'essere umano questa roba qua vi ricordate il famoso schema di sange no quello in cui dobbiamo pensare alle nostre soluzioni e a quali effetti hanno se sono effetti sui sintomi o se vanno a intervenire sul sistema ecco spesso queste sono soluzioni che vanno a intervenire sui sintomi ma non sul sistema che causa quei sintomi fatto sta che comunque dobbiamo comunque considerare che ogni specie conserva un bene prezioso un patrimonio genetico che è frutto di milioni di anni di evoluzione che è irriproducibile è unico non esiste una volta che quella specie si estingue quel patrimonio genetico è andato per sempre e che quella specie contribuisce all'enorme ricchezza diversità e resilienza della natura che è appunto quanto di più ricco è l'unica cosa che esiste sulla terra e quindi niente spero che queste notizie queste ultime notizie vi siano piaciute vi abbiano arricchito e vi abbiano convinto che forse insomma è il caso di smettere di distruggere gli ecosistemi causare cambiamenti climatici soprattutto oggi che è l'hard day possiamo essere anche un po' più naif e dirci queste cose qua va bene io vi saluto anche per oggi come ogni giorno vi do appuntamento domani con una nuova rassegna sempre alle 10 sempre per 10 minuti e vi ricordo come ogni giorno che chi si rassegna è perduto ciao